Viaggio studio per 31 studenti e 4 insegnanti piemontesi, vincitori del concorso, diventiamo cittadini europei. Tra le visite, quelle alla risiera di San Sabba, che fu campo di detenzione nazista, e al magazzino 18 nel porto vecchio di Trieste, deposito che conserva le masserizie degli eduli istriani, fiumani e dalmati, molti dei quali eliminati nelle foibe.